Io reputo ogni gara importante perché secondo me andare ad effettuare una rotazione, un turnover in una gara di campionato la nona giornata, la decima giornata per me non ha senso in questo momento. L'Inter doveva vincere stasera e continuare a crescere. Secondo me tenendo fuori i giocatori che stanno facendo meglio avrei dato un segnale sbagliato ai miei calciatori per primo e all'ambiente perché poi hai visto quanto è stata difficile questa partita e che si era messa anche male. Quindi secondo me è servita la migliore Inter e soprattutto nel secondo tempo io ho visto da un punto di vista della qualità del gioco e della continuità che forse c'era mancata in altre occasioni un grande passo avanti della nostra squadra. Non lo so, ci devo pensare. È pericoloso. Per la Juve. Analizzandola da allenatore, quindi non è che sto facendo uno spot, è quello che penso io, ho visto una continuità di qualità di gioco che in altre occasioni non avevo visto, quindi è un passo avanti da questo punto di vista. Poi detto questo c'è tantissimo da lavorare e sabato incontriamo una squadra che in questo momento in Italia è in testa alla classifica e quindi noi abbiamo la nostra occasione per dimostrare il nostro valore. Grazie.